Una serata a sostegno del Mantello, l'emporio solidale che offre aiuto a persone e nuclei familiari in difficoltà economica. È quella che si è tenuta presso l'Istituto Orio Vergani di Ferrara, con una cena di gala preparata e curata nei dettagli dallo staff della scuola e dei suoi studenti, promossa dai Lions Club Ferrara Host, Lions Club Ferrara Europa Poggio Renatico, Lions Club Ferrara Diamanti e Lions Club Ferrara Ercole Primo d'Este, con la presenza della Quattro Torri Volley di Ferrara. Questa è una serata di gala, ma è una delle tante serate che noi facciamo per beneficenza. Una delle mission della nostra scuola è infatti la beneficenza. Il Mantello è un'associazione, un ente, un'attività che per la città è diventata veramente importante e come l'anno scorso abbiamo avuto un'adesione, come questa cosa è aperta anche alla cittadinanza, abbiamo avuto un'adesione enorme, quindi moltissime persone questa sera sono venute qui e hanno contribuito con il pagamento della quota che spetta per questa cena a dare parecchi soldi alla fine al Mantello. Durante la serata l'Emporio e il Mantello ha presentato le proprie attività ai numerosi presenti attraverso uno spot realizzato da Telestense, partner nell'iniziativa. Oltre alle istituzioni, a prendere parole è stata anche la volontaria Giulia Fiore che ha spiegato che cosa l'ha spinta a sostenere il Mantello. Io sono arrivata al Mantello circa un anno fa e volevo vivere un'esperienza di volontariato sia per la mia crescita che anche per poter contribuire in modo positivo alla mia città e alla mia comunità. Per me Mantello significa soprattutto cambiamento e fiducia nelle persone. Cambiamento perché è un progetto che io trovo innovativo, perché non mira all'assistenzialismo puro, in questo caso dei nuovi poveri, ma i volontari assieme ai beneficiari fanno poi proprio un percorso che mira la riattivazione e in questo percorso di accompagnamento vengono appunto sostenuti con una spesa, perché abbiamo l'emporio solidale, ma anche proprio attraverso la relazione che poi il beneficiario crea con il volontario di riferimento. E fiducia perché in questo periodo, in questo clima in cui stiamo vivendo, penso che ci sia bisogno di recuperare proprio la fiducia nel futuro e la fiducia profonda nelle persone, con la convinzione che anche un soggetto in questo momento più fragile che sta vivendo un periodo di difficoltà abbia comunque tutte le risorse per potersi riattivare e ritornare ad una vita più dignitosa. Al termine della serata è stata comunicata la cifra raccolta grazie alla finalità della cena, 1800 euro che serviranno a sostenere ulteriormente il già popolare Emporio Solidale. Grazie a tutti.